Se c'è questo dubbio obiettivo che vorremmo cercare di raggiungere, innanzitutto promulgare l'attività reggistica nelle nuove generazioni, perché è uno sport di cui negli ultimi anni se ne sta parlando un pochino di più, quindi siamo contenti per questo. E in più crediamo molto nei valori che il rugby soprattutto può portare nelle fasce deboli, perché abbiamo intenzione di portare il rugby anche in varie attività socioassistenziali e nello stesso tempo promulgare tutti i valori che questo sport riesce a trasmettere, che sono un grosso affietamento di squadra, la consapevolezza di cadere e sapersi rialzare in tutte le situazioni, sperando che questo tipo di approccio sia anche nella vita utile per quanto riguarda le nuove generazioni, e soprattutto il senso di sportività, che oggi si sta perdendo nella maggior parte degli sport che siamo abituati a conoscere, mentre nel rugby resiste in maniera consapevole.